Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Momo Love Sharing Time! Oggi, come promesso, vi parliamo di una scuola di teatro nata dall'unione tra Accademia Palcoscenico di Padova e Accademia Teatrale Veneta di Venezia. Si chiama Scuola Teatrale d'Eccellenza. Dura tre anni. Alla fine si può essere scelti per far parte della Compagnia dei Giovani. Trovate tutto sul sito del Teatro Stabile del Veneto. Noi vi lasciamo un video e qualche info. Come sempre voi mettete un like, condividete e attivate le notifiche dei post. Il teatro non si ferma mai!